Primi segnali di ripresa su Bitcoin. Tutto bene, bravi, sono contento, tutto bene. Veramente va tutto male, mi dispiace per lei. Lo so, lo so, magari ora starei pensando, ma dove li vede questi segnali di ripresa? Che Bitcoin continua a scendere dove sono questi segnali? Stai con me fino alla fine di questo video perché li andremo ad analizzare uno per uno. Partiamo da un punto di vista tecnico per capire cosa sta succedendo. Qua ci troviamo sul nostro classico grafico, in questo caso giornaliero perché rende meglio l'idea di quello che sta succedendo, di quello che è successo. Siamo sull'exchange MEXC, uno dell'exchange che preferisco per operare per diversi motivi. Uno, attualmente ancora non ha il KYC. Due, ha delle commissioni in promo, quindi uno 0% sul maker, 0.01% sul taker. Questo per chi fa trading. Per chi va a spot, invece, vuole acquistare Bitcoin e TH, attualmente le commissioni sono dello 0%, quindi ultra ultra vantaggiosi. Qua sotto ti lascio, come al solito, il link se vuoi dargli un'occhiata. Andiamo sul nostro grafico. Vediamo che abbiamo rotto il nostro supporto dei 60K. Rotto quello, siamo andati giù, abbiamo ritestato. Ora, buona norma, dice, continueremo a scendere. Il segnale di ripresa non significa che non ci sia un ulteriore dump, quindi che si continui effettivamente a scendere. Una cosa importante da notare è che comunque ci siamo adagiati su quello che era il supporto successivo, quindi quello che va per intenderci tra i... intorno ai 50K, ecco, quindi per rendere le cose più semplici, intorno ai 50K, e l'abbiamo, direi, assorbito magistralmente con questa bella candela che, ti riassumo qui, eccola qua. Questo è un ottimo segnale a ridosso di questo livello. Certo, ora stiamo tornando giù, quindi bisogna vedere come si muoverà, ma sicuramente questa potrebbe essere un'area estremamente interessante, quindi proiettata di qua, in quest'area qui, per vedere dei movimenti. Abbiamo fatto il nostro double top, siamo andati giù, quindi anche qui nulla di particolare. Sai che non sono un fan dell'analisi tecnica, quello che però mi limito a guardare sono supporti resistenze che quelli non fanno mai male. Allora, andiamo sul nostro grafico mensile per capire la situazione. Che dire? La situazione è questa, abbiamo ora sì che abbiamo visto un bel riassorbimento su Bitcoin, possiamo tornare su questo livello qui, quindi quello che stiamo dicendo, mostrando poco fa, sì, si potrebbe tornare diciamo a ridosso di questo livello qui, per poi eventualmente vedere un rialzo. Qui c'è il massimo dell'attenzione da parte sia di chi fa trading, sia soprattutto degli investitori. Arriviamo però ora all'analisi che piace a me, quindi quella che possiamo chiamare un'analisi fondamentale di ciò che sta succedendo sul mercato. Arriva infatti un alert estremamente interessante da CryptoQuant riguardo il mining. Dice CryptoQuant, attenzione, i miner sono sull'orlo della capitolazione. Ne avevamo già parlato in un precedente video, in una precedente analisi, di questo tema della capitolazione. Cos'è la capitolazione? Sostanzialmente è quando i miner iniziano a vendere, anche in perdita potenzialmente, i propri Bitcoin, o iniziano a spegnere le macchine. Questo che cosa apporta storicamente? Questo ha portato storicamente a un calo dell'ash rate, dell'energia necessaria per minare nuovi Bitcoin, e insieme a un calo dell'ash rate ha poi successivamente portato a un pump dei prezzi, perché viene distrutta un po' la competizione intorno, quindi si smette di dumpare, c'è prima un dump di massa, i prezzi scendono, poi si iniziano ad assestare, dopodiché l'ash rate ricomincia a salire, sono rimasti pochi miner sul mercato, che guadagnano, incassano di più, di conseguenza vendono meno, iniziano a holdare di più, e i prezzi iniziano piano piano di nuovo a salire. Andiamo però a vedere graficamente che cosa sta succedendo, analizzando un pochino di dati che arrivano proprio da CryptoQuant. Ed ecco qua il nostro primo dato. Secondo proprio CryptoQuant, leggo testualmente, i dati relativi alla capitolazione del miner hanno raggiunto un livello paragonabile a quello registrato dopo il crollo di FTX nel dicembre del 2022. Eccolo qui. Quindi qui come vediamo c'è stata una capitolazione dell'ash rate, e una nuova capitolazione dell'ash rate che come vediamo è del tutto similare a quella del 2022. E quindi si parla di un drawdown, di un calo del 7.7% nel hash rate. Del tutto simile vediamo appunto al 2022 post crollo FTX. Cosa successe dopo? Ragazzi, è storia. Parliamo del grande rally del 2023, vediamo il mercato, bella correzione, molto molto bella, lateralizzazione, il bottom, quello per intenderci intorno ai 15k, che comunque è espresso anche qua, e poi si inizia a salire. Fino a questo livello qui. Qua, se non vado errato, c'è un più 300% di crescita. Perché siamo passati da un 15k ad un 70k. Di nuovo un po' di lateralizzazione, capitolazione in questa fase, e qui ci si aspetta che si vada a trovare un bottom, che sia ai livelli attuali, quindi intorno ai 55k, o intorno ai 50, o a livelli più bassi, intorno ai 40k, ma in ogni caso, se tanto mi dà tanto, questo potrebbe essere lo scenario da qui nei prossimi mesi. Quindi una ripresa su bitcoin. Altra cosa interessante da analizzare, sono le revenue, che hanno preso i nostri cari miner. E infatti, sempre in questo documento, condiviso da CryptoQuant, si legge che la maggior parte del periodo successivo all'Halving, adesso lo vedremo graficamente, beh, in questa fase, i miner sono stati estremamente sottopagati rispetto al solito, come evidenziato appunto da questo indicatore qui, miner profit and loss sustainability. Come possiamo vedere qua, queste sono le aree in cui sono abbastanza pagati, overpaid, quindi sovrapagati, extremely overpaid, estremamente sovrapagati, poi questo invece il prezzo, quindi l'andamento del prezzo. Viceversa, in blu, vediamo quando sono estremamente sottopagati. Come possiamo vedere, subito nella fase post-Halving, sono stati ultra, iper, mega sovrapagati, dopodiché, come proponderanza, siamo stati per lo più estremamente sottopagati, e continuiamo a esserlo. Di nuovo c'è stato qualche piccolo picco qua e là, però come possiamo vedere la tendenza post-Halving in questo caso è un essere sottopagati. Questo, congiuntamente al calo dell'Hash Rate, ci fa pensare che cosa? Ci fa pensare che effettivamente i miner stiano vendendo, stiano dampando, stiano iniziando a spegnere macchine, e quindi si stia iniziando a creare quella ripartenza post-Halving tradizionale, no? Perché funziona così. Sostanzialmente l'Hash Rate cresce, il prezzo di Bitcoin cresce, arriva l'Halving, allora cosa succede? Che intanto l'Hash Rate continua a muoversi, crescere, barra lateralizzare, in questa fase alcuni miner si sono adattati, stanno crescendo, e tutto quello che vogliamo, altri invece iniziano a spegnere macchine, quindi iniziano a vendere. Di conseguenza iniziando a vendere, cosa succede? Succede che i prezzi di Bitcoin iniziano a scendere, man mano che i prezzi di Bitcoin iniziano a scendere, ma l'energia per minarli rimane alta, diventa sempre più difficile per questi poveri miner minare. Di conseguenza crolla drasticamente sia il prezzo, sia l'Hash Rate piano piano. Perché? Perché vanno a spegnere le macchine, di conseguenza se prima c'erano 100 miner, 10 spengono le macchine, vuol dire che gli altri 90 hanno una competizione inferiore, poi magari ne spengono altri 10, altri 10 e così via, la competizione diventa sempre più bassa, di conseguenza diventa sempre più facile minare Bitcoin, di conseguenza l'Hash Rate inizia a riprendersi, a risalire. Con esso anche la profittabilità dei vari miner, perché hanno meno Bitcoin da spartire con tanti competitor, di conseguenza accumulano più velocemente, torna in positivo il bilancio, quindi iniziano a mantenere di più, holdare di più Bitcoin piuttosto che damparlo a mercato, e piano piano arrivano i retail e tutto il resto, e quindi si riparte. Se tanto mi da tanto, questa proiezione molto interessante di CryptoQuant, ci porta uno specchietto particolare di quella che è la situazione in questo momento, come dico sempre su Bitcoin, sono poche le cose da guardare. Il prezzo arriva per ultimo. Le cose da guardare sono i cicli, quindi dove ci troviamo rispetto al suo ciclo, la domanda e offerta di Bitcoin, quanti vogliono acquistarlo, e qui gli ETF ragazzi abbiamo una porta spalancata, e il mining, quindi come e quanto stanno guadagnando i miner. Compresi questi tre aspetti, non serve fare neanche analisi tecnica, serve giusto per capire dove ci troviamo, per posizionarci qualche punto di interesse, però questi sono gli aspetti che ci interessano, sono questi. L'analisi fondamentale va fatta su questi tre aspetti, compresi questi, capito come leggerli, abbiamo un'idea di dove si sta muovendo il prezzo, dove si muoverà nei prossimi mesi, quindi sono estremamente positivo per Bitcoin, letti questi documenti. Continuiamo la nostra analisi, eccolo qua, si legge, i ricavi totali giornalieri sono scesi dai 79 milioni di dollari, dal 6 marzo, quindi più o meno in quest'area, agli attuali 29 milioni, quindi un bel calo. Inoltre le entrate derivanti dalle commissioni di transazioni, sono scese del 3.2%, rispetto alle entrate totali giornaliere. La quota più bassa dall'8 di aprile. Ultimo dato importante, la contrazione ha avuto un impatto anche sull'ash price di Bitcoin, un parametro che misura la reddittività dei miner per unità di potenza di calcolo. Attualmente il ricavo medio, si legge per hash, è di uno 0.049 centesimi, quindi 4 centesimi, quasi 5, per esash. Appena sopra il minimo storico di uno 0.045, è raggiunto il primo di maggio, quindi ancora una volta ci troviamo in una situazione, si vede estremamente interessante. Per fare un recap della situazione, abbiamo una capitolazione iniziata e imminente, lato miner deboli, che andranno a spegnere le macchine molto probabilmente, quindi moriranno, selezione naturale, dispiace, ma questo è quello che succede ogni halving. Un bel ritracciamento, che potrebbe andare a segnare un nuovo bottom, per quello che è il movimento futuro. Chiaramente bisogna sempre analizzare anche quella che è la macroeconomia, quindi quello che è lo scenario macroeconomico su cui ci stiamo affacciando, però ecco, rimanendo strettamente correlati su Bitcoin, queste notizie qui ci portano sicuramente una nota positiva in questi giorni, che vedo un mare di rosso e tutti impanicati qua su YouTube, ecco sono arrivato a portare una buona novella, e speriamo effettivamente che sia così. Quindi nervi saldi, se stai holdando Bitcoin, nervi saldissimi, mantieni la calma, sii paziente, analizza questo tipo di informazioni, piuttosto che rimanere fissato a guardare il grafico, il grafico è una conseguenza di ciò che succede a monte, su quelli che sono le entrate, le uscite, miner, halving, e tutta questa bella robetta qui. Qui succedono le cose, e poi il grafico mostra visivamente dopo che è successa la cosa. Quindi se analizziamo, ci limitiamo ad analizzare il grafico, non andiamo lontani. Se analizziamo anche cosa sta succedendo a monte, riusciamo ad avere una proiezione più a medio-lungo termine. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, mi raccomando, se vuoi ricevere altre informazioni, analisi, aggiornamenti, iscriviti al canale, ti basta cliccare qua in basso, vedi, iscriviti al canale, clicca qua sopra, iscriviti, e in un attimo ti sei iscritto, avrai tutti gli aggiornamenti che porterò piano piano qui sul canale. Un abbraccio, ti ringrazio per essere stato qui con me, e ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio,